In questo periodo molto si è parlato e molto si parla della riapertura del caso Notti Magiche. È una vicenda che dietro a un titolo radioso conosconde invece un mistero, un mistero nel quale anche a distanza di 30 anni chiunque potrebbe essere coinvolto. È una vicenda oscura quella di Notti Magiche, un mistero al quale io mi sono interessata sia per deformazione professionale, ma sia perché a testere la trama degli eventi è un autore, è un regista che io stimo e amo infinitamente, ma lo stimo anche per la sua capacità, quella davvero magica, ecco di intrecciare realtà e finzione nella sua narrazione cinematografica. Questi in sintesi fatti, il 3 luglio del 1990, in quella notte che più che magica definirei disastrosa perché in quella notte l'Italia nella semifinale dei mondiali perdeva con l'Argentina rovinosamente ai rigori, quindi in quella notte di luglio del 1990 veniva ritrovato il corpo di un noto produttore cinematografico romano, tale Leandro Saponaro. Ecco, però, mentre fra speranze e spasimi l'Italico Popolo del Pallone era lì incollato al teleschermo, i protagonisti delle Notti Magiche di Virzi, dov'erano quella notte? Benvenuto Paolo Virzi. Grazie signora Leosini. Senta Virzi, io ho visto tutti i suoi film, naturalmente conosco ogni singolo fotogramma dei suoi film e devo dire che molto amerei parlare con lei del suo modo, a volte anche stralunato, di rappresentare la realtà attraverso il suo cinema. Se mi permette signora Leosini, anche io vorrei esprimerle tutto il mio apprezzamento per la sua potenza di narratrice, del lato misterioso dell'animo umano, insomma, la seguo molto. La ringrazio, mi gratifica molto. Però, Virzi, adesso non divaghiamo, eh. Prima una curiosità, è una domanda, ma dove era lei in quella magica notte del 3 luglio del 1990? Lei dove era? Io, io, proprio personale, questo non ero preparato a rispondere, però credo davanti alla televisione, mi sembra, come tutti, a vedere la partita. Ha detto credo? Ma è sicuro? Beh, sì, penso di... stavo guardando la partita, credo. Senti, come abbiamo detto, siamo negli anni 90, insomma. All'epoca lei era un giovane sceneggiatore. Sì. Ma per caso l'avevo dato anche lei con questo produttore Leandro Saponaro? Beh, sì, l'avevo conosciuto. No, cioè, l'avevo conosciuto... Sì o no? Ma lei stava sospettando di me, signor Agliosini, per caso. Beh, non è che magari devo fare una telefonata... La vedo un po' incerta, la vedo un po' incerta. Devo fare una telefonata al mio avvocato, magari, che dice? Ma forse le conviene. Ah, sul serio? Io direi di sì. Ah, eh... Bruno, abbi pazienza, scusa. No, non è per quel contratto che ti chiamo, sono qui con la signora Agliosini, ma tu ti intendi anche di penare, no? C'hai presente Agliosini? Quella ti fa confessare proprio qualsiasi cosa... ...diotti magiche in seguendo un cuore